Risale al 1178 questo piccolo gioiello dell'arte e della tradizione cristiana. Siamo a Povegliano, al santuario della Madonna dell'Uva Secca, una curiosa denominazione che può essere spiegata come storpiatura popolare di Via Secca. Qui ogni anno si celebra solennemente la festa dell'assunzione della Madonna, a cui è dedicato questo luogo di preghiera, dove sull'altare troneggia lo splendido ritratto dell'addormizione della Vergine della scuola di Altichiero d'Azevio. È una festa molto sentita, che viene celebrata da molti anni per una tradizione antica, ma anche per una rivalutazione che è stata fatta negli ultimi tempi, soprattutto in seguito alla ristrutturazione del santuario dopo un periodo di relativo abbandono. Una festa molto sentita, che vede una partecipazione molto elevata di persone, sia alle celebrazioni religiose, che vengono proposte, e sia alla festa paesana, la sagra, che è giunta alla sua quarantesima edizione. Un luogo amato, un luogo che richiama molti alla preghiera, così come racconta il libro delle intenzioni, che si trova proprio in entrata. Dopo i primi lavori di manutenzione, ora un nuovo progetto di risistemazione e impegno a tutta la comunità di Povegliano, che ogni anno organizza una sagra con l'intento di festeggiare la propria patrona e anche, appunto, di raccogliere fondi da devolvere al santuario. Tutta questa ristrutturazione è avvenuta tramite un movimento spontaneo, dal basso, diciamo, della popolazione locale, che ha desiderato rimettere in piedi questa cosa, che è uno splendore, in verità. e quindi il progetto è stato quello, primo, di rimettere a posto il corpo del santuario vero e proprio, cosa che è avvenuta una ventina di anni fa, circa. E poi di fare la stessa cosa per il corpo adiacente al santuario, che dovrebbe diventare, secondo le intenzioni, un luogo di incontro, di formazione, una piccola foresteria e poi l'abitazione della comunità religiosa, che siamo noi, fratelli della Sacra Famiglia, che ci prendiamo cura dell'animazione di questo santuario, ormai da 12 anni. Viene tanta gente durante tutto l'anno a questo santuario, che cosa chiedono le persone? Sì, la gente che viene in questo santuario non è la folla classica dei grandi santuari, è la gente che viene per pregare, è un luogo di preghiera, ha mantenuto questo carattere, desideriamo che venga mantenuto, viene a chiedere le cose più disparate, quelle che riguardano la vita, la malattia, che è un problema, i figli, il lavoro in questo tempo, molto accentuata questa richiesta. Abbiamo un libro qua, un quaderno delle preghiere, su cui ognuno può deporre la sua intenzione.